Perché noi siamo in mezzo a una guerra e, indipendentemente da quanto durerà questa guerra, la divisione, diciamo, tra blocchi durerà. E allora non possiamo fare finta che questo problema non ci sia. È la ragione per la quale Fratelli d'Italia ha preso una posizione così chiara sul conflitto in Ucraina. Perché? Perché io sono convinta che il conflitto in Ucraina sia la punta dell'iceberg di un conflitto molto più ampio, il cui obiettivo è la revisione degli assetti mondiali. Se l'Ucraina cade e l'Occidente perisce, il grande vincitore domani non sarà solamente la Russia di Putin, ma la Cina di Xi Jinping. E chi è più debole in Occidente, segnatamente l'Europa, rischia di ritrovarsi sotto l'influenza, diciamo, cinese. E quindi, secondo me, bisogna combattere questa battaglia. E voglio dire un'altra cosa, perché sento ancora parlare di sanzioni sì, sanzioni no, armi sì, armi no. Ma voi pensate veramente che con la posizione italiana noi decidiamo il destino del conflitto in Ucraina? Cioè, se domani l'Italia non mandasse più armi o se l'Italia non partecipasse più alle sanzioni, che cosa farebbe il resto dell'Occidente? Niente, continuerebbero a mandarle. La Gran Bretagna da sola manda più delle armi che manda tutta l'Europa. E' la nostra posizione che stiamo decidendo, è il nostro futuro che stiamo decidendo, è la nostra credibilità che noi decidiamo sulla posizione ucraina, perché, ovviamente, noi abbiamo, diciamo, un dato veloce, volume e esportazioni con la Russia 1,5%, volume e esportazioni con l'Occidente 80%. Se domani l'Italia si sfila dai suoi alleati e si gira dall'altra parte, per l'Ucraina non cambia niente, per noi cambia moltissimo. E una nazione seria che voglia difendere i suoi interessi deve avere una postura credibile.